Sono diventati una croce quasi quotidiana i treni che passano vuoti con 10 o 15 minuti di ritardo, come oggi alle 4 del pomeriggio, ai passaggi a livello della Cremona-Treviglio, sotto lo sguardo sconcertato di decine di automobilisti in attesa, compresi gli ex pendolari che hanno rinunciato al treno dopo anni di disagi, ma i guasti di Trenord, che anche stamattina hanno colpito i viaggiatori della linea Mantua-Cremona-Milano, sono un'esperienza ancora peggiore. La causa infatti dipende dalla manutenzione, che non si fa, quindi dall'uso delle risorse e dalla programmazione dei massimi dirigenti della società ferroviaria, controllate direttamente dalla regione Lombardia, come segnalato da anni da Dario Balotta, di Rega Ambiente, Lombardia e dalle associazioni dei pendolari, oltre che dai consiglieri regionali di minoranza. Stamattina gli impianti tra Pizzighettone e Codogno per un guasto hanno causato un ritardo di un'ora a Cremona. Da Milano l'Odi pendolari sono arrivati in orario, ma a Cremona la stessa corsa è arrivata alle 8.33 anziché alle 7.30. Ad Acqua Negra una passeggera, non sapendo come avvisare Trenord, ha chiesto su un sito interne di far aprire le porte del treno, dato che per la polvere non si riusciva a respirare. Si è ripetuta la lamentela per la carenza di informazioni. Dopo un'ora persa non pochi non sapevano che fare, se scendere o sperare di arrivare a Cremona. Sulla stessa linea, ma nella direzione opposta da Cremona-Milano-Lambrate, si sono persi su un altro convoglio 20 minuti. Contemporaneamente sulla Cremona-Treviglio si rallentava di un altro quarto d'ora, sia la mattina presto che poi nel pomeriggio. Proteste anche a Brescia, sempre stamattina, dove un gruppo di pendolari ha organizzato un sit-in per chiedere a Trenordino sostituire Freccia Bianca con i più costosi Freccia Rossa sulla linea Verona-Brescia-Milano. E' lega ambiente Lombardia, ancora con Dario Balotta, a precisare che Trenitalia, classificando tutti i treni come Freccia Rossa, aumenta le tariffe del 30%. Sotto attacco quindi cade ancora la politica dei trasporti delle regioni Lombardia e Veneto, che invece di quadruplicare le linee sulla Milano-Venezia e investire sui treni regionali di loro costante manutenzione, trova modo di aumentare le spese e produrre sempre più debito pubblico, mentre i disservizi hanno un giudice implacabile, come l'orologio.